Per colpa di un incidente stradale, un lampione del parcheggio del centro sportivo di Borgonovo rischia di cadere a causa della sua pendenza. Già due mesi fa, il consigliere comunale Guido Guasconi aveva denunciato la pericolosità all'amministrazione comunale, a cui aveva chiesto di transennare l'area. Oggi la situazione non pare cambiata. È già apparso sul giornale questa situazione, che è eccezionale, non perché penda il palo può anche succedere, ma perché non viene transennata l'area di pericolo. A settembre, si ritiene, inizieranno le società sportive a frequentare questa struttura. Mettiamo pure che i bimbi passano dalla splesso, ma è evidente che è inaccettabile questo fatto. Va transennato immediatamente. Quale sarà la sua prossima mossa? Certamente farò intervenire i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, perché qui dobbiamo accedere ad estremi rimedi. Abbiamo interpellato il sindaco Roberto Barbieri, che ha promesso un intervento la prossima settimana. Sembra che la campagna elettorale nel paese della Valtidone sia già in astre di partenza. Dopo la rinuncia alla ricandidatura del sindaco Barbieri, proprio il consigliere di minoranza Guido Guasconi ha annunciato la sua candidatura alle elezioni del prossimo anno.